Qual è la situazione legata alla presenza dell'amianto nel comune di Vallefoglia e in particolar modo in quest'area? Ancora non abbiamo una situazione ben precisa per quanto riguarda il comune di Vallefoglia, perché siamo dietro a richiedere una mappatura. L'anno scorso, a novembre 2020, il Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione in comune dove richiedevano appunto questa mappatura delle zone industriali, l'emozione che è stata accettata da tutti, compresa la Giunta e l'opposizione, che però ad oggi, circa un mese fa, ho chiesto lo stato avanzamento lavori e non mi è stata data una risposta concreta, quindi deduco che ad oggi non è stato ancora fatto niente, mentre invece è importantissimo capire la situazione per poter poi accantonare le cifre che ci servono per le bonifiche. Il 21 ottobre il Parlamento europeo ha varato una risoluzione dove tutti gli stati membri devono presentare un piano di lavoro per la bonifica dell'amianto da tutti gli ambienti, sia di lavoro che di vita, nel giro di breve. Serve urgentemente una mappatura, abbiamo richiesto altri incentivi come il 110% che venga fatto anche per le bonifiche dirette di amianto, non solo per le ristrutturazioni e questo è importante. Poi c'è il bando INAIL che le aziende possono usufruire, adesso è uscito anche a ottobre per il prossimo anno 2021-2022. Proprio ieri mattina una signora mi ha chiamato perché a suo marito gli hanno diagnosticato il mesotelioma. Lavoro che faceva l'agricoltore, quindi aveva il cappanno in amianto, quindi come vedete non è che colpisce solo una categoria di lavoratori, forse una volta che colpivano proprio chi lo lavorava l'amianto, ma ora siamo un po' tutti a rischio perché di amianto è stato fatto veramente un largo uso, quindi pensiamo a tutti i vari tetti nelle zone industriali, pensiamo alle canne fumarie, pensiamo anche alle reti idriche perché i tubi dell'acqua sono ancora per la maggior parte tutti in amianto, vengono cambiati man mano che ci sono le rotture da marche e molti servizi, però l'impianto idrico è ancora in amianto. Quelle sono le problematiche che comporta questo materiale? Col passare del tempo può perdere di compattezza e rilasciare queste fibre che se inalate sono pericolose per la salute delle persone, basti pensare al mesotelioma, al tumore del polmone, alle placche pleuriche, adesso ultimamente hanno visto anche alle ovaie, quindi vorrei che tutto quello che riguarda la salute fosse preso veramente in modo serio, perché basti pensare che la legge è uscita nel 92, ma dal 92 ad oggi sono passati 30 anni, ma poco è stato fatto, anche da parte delle istituzioni, che molto sarebbe anche quello che dovevano fare, informare i cittadini, perché io per prima, dopo che è morto mio papà, ho avuto la consapevolezza di quanto fosse pericoloso l'amianto, ma prima sì, sapevo che era pericoloso, però non avevo questa coscienza.